Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio, il microfono, e da tutti noi di Radio Speranza in Blu. La missione di Giovanni il Battista, questo il Vangelo al centro della lezione divina di ieri sera tenuta da Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne, che ha aperto nella Chiesa dello Spirito Santo con una precisazione, questa. Comunemente, se chiedete anche alle persone che di solito frequentano l'Eucaristia Dominicale, voi troverete l'idea che l'Avvento sia la preparazione al Natale. Questo è un concetto che dobbiamo togliere dalla nostra mente. L'Avvento non è il tempo di preparazione al Natale. Il canto iniziale che abbiamo fatto, il bellissimo Maranatà, come sapete la parola Maranatà è l'ultima parola della Bibbia, e l'ultima parola del Libro dell'Apocalisse, Maranatà viene il Signore Gesù. Dunque, le Domeniche di Avvento, la prima, la seconda, la terza, e anche le ultime Domeniche dell'anno liturgico, che cosa ci vogliono dire? Ci vogliono dire che dobbiamo essere preparati, vigilanti, attenti, perché il Signore torna nella gloria. Questo concetto del Cristo che torna nella gloria è un concetto che purtroppo molto spesso rimane alla periferia delle nostre meditazioni e anche alla periferia delle nostre predicazioni. Cristo torna nella gloria e la Chiesa non fa altro che dire continuamente «Vieni, Signore Gesù, vieni presto in mezzo a noi, vieni a instaurare quel regno di amore, di pace, di giustizia e di verità che Tu solo puoi donare all'umanità che cammina nel tempo e nel tempo cerca di realizzare solo in figura quel progetto d'amore che Tu hai fatto sull'umanità stessa, ma arriverà, oh Signore, il tempo in cui Tu ci troverai e verrai a parlare a ciascuno di noi. Per capirci meglio aggiungo a questa annotazione la bellissima frase di San Paolo «Fratelli, noi che siamo vivi non avremo nessun vantaggio nei confronti di coloro che sono morti, infatti quando il Signore verrà giudicherà i vivi e i morti». Addirittura San Paolo aveva la cognizione come del resto tutta la Chiesa primitiva che Cristo sarebbe tornato da lì a poco tempo perché veniva Lui, il Signore, a instaurare il regno definitivo che aveva promesso ai Suoi discepoli, che aveva promesso alla Sua comunità. Man mano che il tempo passava e man mano che i secoli si sono accavallati nella storia della Chiesa, questa attenzione, questo desiderio, questo anelito di invocare il ritorno del Signore, di far sì che il ritorno del Signore venga presto, si è affievolito e molto spesso si è identificato il momento della morte con il momento del ritorno del Signore, ma non c'entra assolutamente nulla. Il Signore verrà e i morti risorgeranno. Ci sarà un cielo nuovo e una terra nuova e ci sarà un corpo nuovo, lo stesso corpo glorioso che Cristo ha avuto nel giorno della risurrezione. Una bella spiritualità di persone che camminano nella fede continua a dire «Signore, vieni presto e fa che tu mi trovi vivo quando tornerai nella gloria». Accadrà, non accadrà, nessuno di noi lo sa. Sappiamo che Cristo tornerà, ma il tempo del suo ritorno non è dato di sapere a nessuno. Solo il Padre lo sa. Dunque, Monsignor Valentinetti ha insistito sul fatto che nel Vangelo di Luca, quello in cui si parla di Giovanni Battista, si colloca temporalmente la storia. Lo si fa non solo per un'esigenza di carattere storico, ma anche per un contrappeso che c'è tra i personaggi citati che vivono nel fasto, ma anche nel peccato, e quel deserto in cui non c'è nulla, ma arriva la parola di Dio che venne, ha detto, l'Arcivescovo di Pescara Penne su Giovanni. Ed è un invito, una parola che produce effetto se ascoltata e non se non è ascoltata. Dunque, un battesimo di conversione, quello predicato da Giovanni, che annuncia un regno. Quale regno, si è chiesto l'Arcivescovo di Pescara Penne? Quello definitivo è lo stesso Giovanni a capire che doveva preparare la via al Messia, che avrebbe instaurato il regno di Israele in vista di quello di Dio. E per questo, appunto, Gesù, quando Giovanni gli chiederà se davvero lui il Messia, gli manderà chiedere questo dal carcere, intuendo, tra l'altro, che il suo martirio era vicino, risponde dicendo che ci sono i segni, cioè che i ciechi vedono, gli storpi camminano, i poveri, è annunciata la buona novella. Sono i segni del regno di Dio, ha detto Monsignor Valentinetti, che Cristo predicherà proprio dopo l'arresto di Giovanni. Ascoltiamo l'Arcivescovo. Dunque, qui si comincia a ragionare seriamente del regno di Dio, del regno di Dio che prevede una conversione, del regno di Dio che prevede il perdono dei peccati. Perché? Colui che instaura il regno è finalmente il Misericordioso, colui che viene a fare misericordia. E avremo da meditare su questo tema abbondantemente durante l'anno liturgico che ci aspetta visto che avremo un anno dedicato proprio all'evento della Misericordia. E a questo punto la predicazione di Giovanni è una predicazione che attinge a un profeta. Quindi non è una predicazione nuova al 100%, ma è una predicazione che va a prendere la sorgente da un profeta e il profeta è Isaia come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto preparate la via del Signore raddrizzate i suoi sentieri ogni burrone sarà riempito ogni monte e ogni colle sarà abbassato le vie tortuose diventeranno diritte e quelle impervie spianate ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. se volete capire bene questi versetti dovete cominciare dall'ultimo ogni uomo vedrà la salvezza di Dio cioè la salvezza di Dio in quel regno che verrà sarà totalmente manifesto non ci sarà più nessuno che potrà dire no non è vero è una salvezza che sarà conosciuta da tutti e riconosciuta da tutti è questo evento straordinario finale ma è un evento finale dove tutti riconosceranno la salvezza di Dio mi verrebbe la domanda a questo punto che potrebbe albergarne al cuore di qualcuno anche gli ebrei lo riconosceranno certo anche gli ebrei anche gli musulmani lo riconosceranno certo anche i musulmani gli indulisti lo riconosceranno certo anche gli indulisti eccetera potrei continuare la candilena fino alla fine ma proprio in forza di questa verità che noi siamo capaci oggi anche di dialogare con questi fratelli ma perché e dalla parola come sempre arriva un invito appunto all'azione e allora l'invito eccolo qui ho cercato di capire che cosa potrebbe significare per noi in questo momento le valli colmate i monti abbassati le strade tortuose che diventano diritte e allora siccome siamo all'inizio dell'anno della misericordia mi sembra che potrebbero essere questi i monti abbassati eccetera eccetera sono cose che sapete ma mo ve lo ritengo dar da mangiare agli affamati dar da bere agli asserati vestire gli inudi alloggiare i peggiorini visitare gli infermi visitare i carcerati seppellire i morti sette opere di misericordia corporale ma c'è di più consigliare i dubbiosi insegnare gli ignoranti ammonire i peccatori consolare gli afflitti perdonare le offese sopportare pazientemente le persone moleste pregare Dio per i vivi e per i morti opere di misericordia spirituale stiamo per far uscire un piccolo pustolo della Diocesi tramite Ufficio Caritas con queste sette opere di misericordia corporale e sette opere di misericordia spirituale con brevi meditazioni in modo che le recuperiamo e le facciamo diventare via della nostra spiritualità non solo adesso non solo nell'anno della misericordia ma sperando che la nostra conversione finalmente arrivi per tutta la vita perché questo è quello che ci chiede il Signore ed è tutto abbiamo riascoltato insieme la lezione divina di Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti Arcivescovo di Pescara Penne sulla lezione divina di Avvento ed è davvero tutto da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne grazie a risentirci